E ci spostiamo ora all'aeroporto Marconi che diventa sempre più a misura di bambino. Da domani infatti prendono il via i percorsi per le famiglie con figli che saranno segnalati da Totem e da Vetrofanie con Geronimo Stilton. Vediamo. Il mondo dell'aeroporto raccontato ai più piccoli da Geronimo Stilton. Al Marconi di Bologna i bambini da 0 a 6 anni saranno accolti e guidati attraverso lo scalo dal topo più conosciuto e amato grazie a una partnership con Atlantica Entertainment. I servizi dedicati alle famiglie saranno segnalati da Totem giganti, adesivi e Vetrofanie con l'immagine di Geronimo. Dal Family Fast Track al Menu Baby il progetto Airport for Kids punta a rendere lo scalo sempre più a misura di bambino. Evidentemente è un'occasione per prestare attenzione in maniera particolare a una parte importante dei nostri clienti che sono i bambini. In particolare in questa stagione estiva, quindi parte domani questo servizio, viaggiano molte famiglie con bambini. Secondo noi è dare un punto di attenzione creando una parte con un personaggio che è famoso, che è conosciuto e che fa creare questa atmosfera di viaggio che in qualche modo diventa anche un'avventura particolare e per noi molto importante. Sarà anche un menù dedicato? Assolutamente sì perché sarà tutta una serie di iniziative, menù, informazioni, percorsi dedicati. Quindi diciamo il bambino verrà accompagnato da Geronimo Stilton in tutta la sua esperienza di passeggeri in aeroporto nel corso insieme ai suoi genitori. C'è una stima dei piccoli passeggeri, diciamo così, in quanti transitano nell'aeroporto di Bologna? Insomma che tipo di flusso c'è da questo punto di vista? Beh dipende molto dal periodo stagionale. Questo è un periodo massimo, quindi le famiglie con bambini raggiungono una percentuale che supera il 20% durante la stagione estiva. Ai baby passeggeri è stata anche dedicata una brochure pensata con una funzione ludico-didattica. È un personaggio che a tutti gli effetti fa parte del mondo delle famiglie, che si rivolge alle famiglie e che di conseguenza con l'aeroporto Marconi ha trovato immediatamente aderenza, proprio perché ha proprio nel DNA questa capacità di andare a parlare alle famiglie, di offrire un entertainment educativo e l'obiettivo dell'aeroporto Marconi era proprio questo. Quindi c'è stata un'aderenza immediata, di visione da parte di tutte e due le società e oggi questo progetto prende il via. Oltre all'aspetto proprio di accompagnamento delle famiglie all'interno della struttura c'è anche un modo per conoscere, attraverso Geronimo Stilton, per conoscere come funziona l'aeroporto, come è fatto e anche perché magari è necessario attraversare i passaggi di sicurezza oppure attendere dei momenti tra un'attività e l'altra.